Siamo qui perché come studenti e studentesse vogliamo fermare il decreto Salvini perché ci sembra qualcosa di veramente surreale che va contro qualsiasi tipo di diritto umano e che lede alla libertà e ai diritti di tutte le persone, quindi dei migranti ma anche ci sono altre parti come quella sui beni confiscati alle mafie, quella rispetto ai centri SPRAR e ai centri di esplosione che sono assolutamente inconcebibili per noi, quindi siamo qui per opporci a questo decreto che è del tutto assurdo. Siamo qui La manifestazione contro la racismo è normale perché non funziona le cose che non si può fare in Italia, è una cosa troppo brutta, non è che una persona si fa una cosa dopo teleprinico di tutti, ogni una ha il carattere, ogni una ha il carattere, ogni una ha il carattere, la sua dignità, la sua personalità, allora dobbiamo essere uniti, siamo tutti esseri umani. Siamo donne e nero contro la guerra, è un movimento che c'è in tutto il mondo. E quindi non possiamo sopportare l'ingiustizia che si sta compiendo in Italia contro i migranti, noi siamo per l'accoglienza di tutti e di tutti, senza frontiere e senza fuori. Oh oh! Purtroppo non ci sono parole per capire la situazione in questo paese e in Europa. È un problema grosso. È una bella manifestazione, grande, molto variegata, molto associazionismo, molti migranti. Non è una manifestazione tutta bianca, questo è importante. Ed è importantissimo il fatto che ci sia una manifestazione chiarissimamente contro il governo e contro questo decreto. Era una cosa che ancora si era vista in molte città, non si era vista a livello nazionale. Questo è molto, molto, molto importante. No, no, no. ma per il senso se abbiamo mai Giooo Gio 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 Buonasera, siamo scesi oggi a Roma per manifestare contro il decreto razzista Salvini Movimento 5 Stelle un decreto che sta calpestando i diritti un decreto pieno di rabbia e di razzismo un decreto che per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico ha introdotto l'apartheid amministrativo il razzismo di stato che stanno cercando di ostacolare la colienza in Italia ecco perché noi siamo scesi in piazza per dire no a queste politiche di repressione un decreto un decreto un decreto un decreto un decreto un decreto Siente Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.